Andiamo avanti ancora. La lussuria non è peccato, il vizio capitale diventa una virtù. La lussuria non è un peccato, è una virtù. Siate lussuriosi. Dalla Repubblica del 21 gennaio 2004. Oxford assolve Eloda l'abbandono al piacere. C'era una volta i sette peccati capitali, la lista dei vizi più abbietti che condannavano un cristiano all'inferno per l'eternità e ci andasse e si togliesse dalle scatole. Stilata da Papa Gregorio Magno nel VI secolo d.C. Da allora tuttavia è passato un bel po' di tempo, molte cose sono cambiate e oggi quelle sette depravazioni dell'anima non dovrebbero essere più considerate tali. L'opinione non è della Chiesa naturalmente, ma di un'autorità, dal mio punto di vista, ben più illustre, la Facoltà di Filosofia dell'Università di Oxford, la quale ha affidato a sette dei suoi docenti il compito di dimostrare per iscritto, uno per uno, che nella società odierna i sette peccati capitali non sono più capitali e neppure peccati. Ciascuno dei pamplet sarà pubblicato dalla rivista Oxford University Press. Praticamente cosa succede? Succede che in realtà la Chiesa cattolica e i cristiani hanno costruito uno strumento di repressione emotiva, di repressione umana e lo hanno chiamato i sette peccati capitali. Superbia, avarizia, lussuria, gola, invidia, cidia, ira. Ebbene, tutti questi in realtà, peccati capitali, non sono altro che passioni della vita, le passioni dell'uomo, che i cristiani devono reprimere per avere il controllo della persona, per distruggere la persona. Sappiamo benissimo quali sono gli esempi, no? L'individuo superbo, è vero, però ricordatevi che esiste l'altro aspetto, l'individuo che è orgoglioso di se stesso. Io ho scalato una montagna, io ho serrato i denti e i pugni, io ho affrontato quella parete di sesto grado, io ho piantato i chiodi, e quando il vento sforzava forte, io continuavo a salire, io ce l'ho fatta. E il cristiano deve distruggere questo, deve distruggere l'orgoglio dell'uomo che dà l'assalto al cielo e alla vita. Tu sei superbo. Dice il pazzo di Nazareth, io sono sapiente perché la mia sapienza viene da Dio. non devo io conquistare sapienza, non mi sono rovellato il cervello, non ho affrontato i problemi della vita, non mi sono massacrato per risolvere le condizioni dell'esistenza, no, non ho fatto niente, ho rinunciato la vita. Dio mi ha dato la sapienza. Poi va a leggere i suoi scritti, è un imbecille di primordine. Solo i cristiani possono osannare un imbecille. E questo vale anche per l'avarizia. L'avarizia non è togliere qualcosa a qualcun altro. L'avarizia non è non dare nulla a nessuno. Ma l'avarizia è conservare se stessi. Noi, noi soggetti, siamo preziosi. E noi soggetti siamo preziosi tanto più, quanto più siamo forti, quanto più siamo abili. E la lussuria, uccidere il sesso, la sessualità delle persone per trasformarle in bestie. La gola, impedire alle persone di mangiare. L'invidia, impedire alle persone di dare l'assalto al cielo. E l'ira, impedire alle persone di arrabbiarsi. Di chiedere giustizia. Già, i sette peccati capitali della Chiesa Cattolica furono una grande infamia. una delle maggiori infamie che siano ormai state compiute. Servivano per distruggere il soggetto, l'uomo, il singolo individuo. Andiamo avanti. E se non ricorderete questo, non potrete mai percorrere un sentiero di stregoneria. Né riconoscerlo quando si presenta. Scacchi, poesie e perfino sesso. Così si può allenare la memoria. Repubblica del 27 marzo del 2004. E si ricollega un po' a quel discorso dell'accensione del gruppo neuronale quando si ricorda qualcosa, no? Fra le altre cose, in questo articolo, e da Repubblica 27 marzo 2004, ci sono quattro elementi da considerare. Uno è dell'ippocampo, che è una piccola struttura spiraliforme che si trova nel cervello profondo, cioè nel cervello antico. Si comporta un po' come il vigile urbano dei ricordi e ricopre un ruolo importante nel convertire una memoria a breve termine in una memoria a lungo termine. Due, la corteccia. L'ippocampo ha legami con alcune aree della corteccia implicate nel pensiero e nel linguaggio. Le aree corticali sono forse quelle in cui vengono immagazzinati, forse quelle immagazzinati contenuti delle memorie a lungo termine. Tre, l'amigdala. Controlla gli aspetti emotivi della memoria. Se un suono viene seguito da un evento spiacevole, in futuro evocherà sempre un ricordo spiacevole. Uno stato di ansia molto forte rende difficile la memorizzazione. Quattro, cervelletto. Nella memoria motoria è coinvolto il cervelletto, responsabile delle doti di equilibrio e tempismo. Apprendere movimenti e agire al momento giusto sono qualità di chi suona strumenti musicali. Il cervelletto è una memoria molto particolare ed è una memoria che si può allenare soltanto all'interno della pratica del crogiolo dello stregone oppure con pratiche simili o analoghe. Sì, anche con lo studio. E così scopriamo, da Salute di Repubblica, del 9 febbraio 2006, che baciarsi fa bene. Un atto che adesso anche la scienza esalta. Farlo con regolarità riduce il rischio di infarto, la forza autostima, calma, ma secondo un'inchiesta tedesca agli uomini piace un po' meno che alle donne. Bacciatevi. Questa è l'unica cosa. E così siamo arrivati un po' alla fine del nostro percorso e delle cose che sono state scoperte ultimamente e che vanno a coincidere un po' con le tensioni, le tendenze, le strategie che la stregonaria aveva già adottato e che vengono dimostrate come esistono dei meccanismi dentro di noi che si modificano e viene dimostrato che esistono delle potenzialità dentro di noi che vanno sfruttate, tipo quelle per esempio del doppio cervello, il fatto che nello stomaco esista un vero e proprio cervello. Quando qualcuno diceva di aver scoperto questa o quella medicina efficace non si rendeva conto che magari a ragionare era il suo secondo cervello all'interno dello stomaco e che mandava degli input al cervello principale. Bene, e con questo io ho finito il ciclo degli strumenti che ha a disposizione un individuo adulto proprio per portare a termine quello che è il terzo mondo dell'esistenza umana cioè il mondo dell'individuo adulto quel mondo in cui l'individuo si differenzia dal bambino proprio perché non solo si adatta ai fenomeni provenienti dal mondo ma mette in atto delle strategie di vita e di esistenza all'interno del mondo in cui vive. nel mettere in atto queste strategie di vita e di esistenza non fa altro che alimentare, sveltire, svegliare potenziare quelle che sono le capacità dentro di lui. E allora vediamo che mette in moto il secondo cervello mette in moto le sue emozioni mette in moto la sua intuizione la parte interna mette in moto la sua sessualità mette in moto tutto quello che è la sua esposizione davanti al mondo e percepisce il mondo in maniera diversa la quantità e la qualità di fenomeni del mondo che giungono a lui sono infinitamente maggiori la sua capacità di elaborazione diventa più veloce la sua capacità di far emergere l'intuizione è maggiore a quel punto non gli resta altro che mettere a punto la sfida della sua esistenza e il vivere per sfida non sarà altro che la summa di tutta la sua trasformazione e questa è l'essenza dell'arte della stragonaria siamo arrivati ormai sia un po' verso la fine della trasmissione ma siamo arrivati anche a parlare dell'ultima parte l'ultima parte su cui volevo soffermarmi era la meditazione la meditazione è stata studiata recentemente da vari scienziati i quali si sono dimenticati solo una cosa di precisare che cos'è la meditazione in pratica tutti usano il termine meditazione ma poche persone vanno a definire quali sono le attività o i modi con cui praticare la meditazione noi in stragonaria essenzialmente usiamo quattro sistemi diversi che li chiamiamo in quattro diversi modi e questi quattro diversi modi rientrano negli studi sulla meditazione in generale il vero problema è che se voi meditate come ve lo dice un tibetano non ottenete nessun risultato se voi meditate come vi dicono non so meditazione trascendentale non ottenete nessun risultato se voi meditate come non so vi insegnano gli Hare Krishna o vi insegnano gli Hindu voi non ottenete nessun risultato e questo perché quando noi parliamo di meditazione in realtà esistono quattro modelli diversi di meditazione uno è la chiusura del dialogo interno provate a fermarvi e fermare il flusso delle parole dentro di voi nello stesso tempo tentate di mantenere vigile quelli che sono i vostri sensi e l'elaborazione dei fenomeni dentro di voi senza far scorrere le parole e questo è un tipo di meditazione 2 esiste quella che viene chiamata la meditazione vera e propria solo che in stragoneria la meditazione vera e propria non è altro che il mettere ordine nelle nostre parole non è facile descrivere compiutamente il mondo mettere ordine fra emozioni che esplodono dentro di noi e parole con cui comunicare ciò che sono le nostre emozioni questa riuscire a costruire questa armonia e sono le emozioni vere e proprie cioè è la meditazione vera e propria in pratica si prende un oggetto del mondo un'idea un modo di essere lo si sottrae dal mondo e lo si pensa attraverso le parole rallentando il flusso delle parole e nella rallentare il flusso delle parole si concentrano su di esse le nostre emozioni quando si fa questo esercizio per un certo periodo di tempo ci si accorge che la descrizione delle cose che noi vogliamo comunicare diventa molto più agile potete farvi anche un corso universitario specialmente di psicologia o di psicanalisi e vi insegno esattamente la stessa cosa poi in stragonaria abbiamo un terzo aspetto che è la contemplazione la contemplazione allora se la meditazione metteva a posto le parole nella comunicazione con la contemplazione mettiamo a posto i sensi nella percezione del mondo e in pratica c'è un uso degli occhi un uso delle orecchie un uso del gusto un uso del tatto che ci permette di percepire il mondo in maniera diversa e non sto qui a descriverla e infine in stragonaria c'è un altro aspetto che viene passato per meditazione è che è lo spostamento dell'attenzione dentro di noi spostare l'attenzione dentro di noi lo chiamiamo ascoltare le correnti vegetative significa non solo ascoltare i formicoli ma significa anche mettere in moto tutte le potenzialità che noi abbiamo dentro di noi quattro forme sospendere il dialogo interno meditazione contemplazione e ascoltare le correnti vegetative hanno quattro effetti diversi però quando noi oggi questa sera vi leggerò le scoperte sulle meditazioni vi accorgerete che viene tutto saltato questo e viene considerata la meditazione esattamente come un corpo unico bene allora visto che oltre che le capacità che noi abbiamo di affrontare l'esistenza ve le ho dette vi farò questo discorso sulla meditazione questa sera e poi concluderemo con un pezzo illuminazione e illuminati che è stato fatto ed è stato messo in internet bene ora 049 700 700 e 049 700 838 se non arrivo a telefonata andrò tranquillamente avanti con il discorso della meditazione dove diavolo ho messo gli occhiali adesso chi lo sa pronto ok ok eccoli qua pronto ciao 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 come stai tu bene 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 ottimo ho reso conto come al solito grazie ascoltare con devozione devozione con devozione attento ho cercato fin adesso perché non mi ha più in mente la la statua dell'aniche no si perché avevo siccome che dei libri di arte arte greca e adesso e adesso in ultima quando c'è parte il telefono ho trovato un volume appunto dell'aniche comunque dopo mi guardo bene perché sennò era un po' frustrante mi guardo è quella di Samotraccia è Samotraccia si si sia è ale e hai senza braccia e senza testa senza testa attento Repubblica scusa se cambio discorso dimmi assieme il tuo discorso completo naturalmente che in Irlanda scandalo preti pedofili ancora Repubblica Repubblica di oggi si Repubblica pagina 26 mezza pagina scambio per le pedofili un'inchiesta scopre oltre 350 casi di abusi dagli anni 40 105 denunce 5,8 milioni di rimborsi 1800 indagati e 2,5 milioni di celline per le spese dunque è detto qua e dice che l'archivescovo Dermold Martin saremo costretti a vendere le proprietà delle diociti ma è un sacrificio necessario bastardi è un sacrificio è un sacrificio è un sacrificio no pagina 26 dopo che c'è su cultura c'è un articolo di Garimberti su una finissera di Garimberti su una critica su Freud cioè viene critica praticamente viene critica un attimo che lo butteria su questo qua è un articolo se hai scritto un libro sulla meta in psicosi si no sulla metapsychica e roba del genere no io avevo visto qualcosa ieri in libreria comunque adesso qua ho rotto tutto comunque c'è la Repubblica della Cultura che si uscì un nuovo libro su una critica a Freud su una roba del genere sui libri che ha scritto i suoi primi si pensavano che Freud va bene comunque me lo leggerò dai devo ancora fare la segna stampa va bene in vano grazie infinite al resto va tutto bene e padre perché sono delle tre e mezza che sono in piedi per cui non è che sia fatto a mattinata no ah si no caro no va bene dai ok va bene ciao ancora due settimane fa parlavi di rassing come pedofilo giusto si beh è sotto processo due processi aveva no 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 figurati ma comunque a parte questo devo sapere dopo l'altra l'altra come si dice contro gli ebrei qualcosa del genere che mi è sfuggito no no mi sembrava che fosse anche praticamente cioè un anti ebreo forte insomma ecco no 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 a parte quello che è stato nel gruppo nazisti sono capito male a meno che io non abbia parlato di alcune cose che sono comuni alla religione cristiana e alla religione ebraica o abbia parlato magari del vecchio testamento che è stato elaborato dagli ebrei per gli interessi se volessi è afferrato questi aspetti insomma si si comunque insomma a parte il mio modo di vedere praticamente nel tempo di guerra quando che sta la famosa diressimo Soa questa è il Vaticano che si si no 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 lo ha fatto lui lo ha fatto lui si no lui non può averlo fatto no no beh io no beh non lui personalmente ma l'ha fatto il Vaticano insomma cioè il Vaticano lui ha fatto partire la guerra insomma sono più di convinto comunque secondo il mio punto di vista e dopo chiudo eh devo andare via si tutte le forme religiose non sono altro che un fattore come si può dire destabilizzante sia parte destabilizzante ma anche infantile nel vero senso della parola il monoteismo si si perché non ti da niente ok devo mettere giù se devo chiudere dammi bene grazie ciao ciao niente chiudo qui la trasmissione mando immediatamente la pubblicità e c'è naturalmente Alvise che aspetta ciao ciao